Questa è signora nella famiglia e quando lavora biglia, biglia, forse è arrivace ma la mente pace, è sempre più sagace, perché la mia gusta, mi gusta, mi guasta, mei, 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 mei. Questa è stata così stendita, poi scendita, poi scendita, mei, 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 Grazie a tutti. Se è un oscio, un patino, quel tamerino, lei cos' può rive e schiva. E quando il corpo scende, lo prende, lo prende. Lei, 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 lei. A torna sua torciglia, torciglia, torciglia. Lei, 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 lei. Oh, come l'endolo, viarei i cavalli. E trottare le sale mercalli. Oh, come l'endolo, viarei i cavalli. E trottare le sale mercalli. Oh, come l'endolo, viarei i cavalli. Oh, come l'endolo. Oh, come l'endolo. Grazie.